Non solo Bari Potenza nella domenica della Serie C, il Gironet C vedrà in campo anche le altre quattro squadre pugliesi, due in casa e due in trasferta, per impegni tutt'altro che comodi. Le partite più complicate saranno quelle di Biceglie e Virtus Francavilla, nonostante giochino entrambe tra le muramiche. La squadra di Papagni, reduce dal pareggio con Rammaico nel derby contro il Monopoli, ospiterà il Ventura e il Catania, quinto in classifica e in crisi dopo due sconfitte e tre pareggi nelle ultime cinque partite. L'ultimo KO è quello del Massimino nel derby contro il Palermo. Il Biceglie dovrà stare attentissimo per arginare la voglia di rivalza dei siciliani, ma soprattutto per avvicinarsi sensibilmente ai piazzamenti per la salvezza diretta. La sfida di Nerazzurro Stellati si giocherà alle 15, così come il match della Virtus. A Francavilla Fontana arriverà la capolista Ternana, reduce dal confronto non giocato contro la Cavese, ma anche dal primo KO stagionale contro il Catanzaro. Umbri comunque lanciati verso la Serie B, nonostante il cammino ancora lungo. La squadra di Trocini sarà attesa da un compito difficilissimo per uscire dalla crisi dell'ultimo mese. Posticipo serale affidato invece al Foggia, che andrà a Torre del Greco per ritrovare il successo e il gol, entrambi assenti da cinque giornate. La Tourist non è più quella di inizio campionato ed è anche uscita dalla zona playoff, ma il momento dei rossoneri impone la massima attenzione per evitare di uscire dalla griglia promozione. Marchionne in ogni caso continua a concentrarsi sulla quota salvezza, anche se resta di massima importanza conservare uno dei primi dieci posti in classifica. In Campania il fischio di inizio si è fissato per le 20.30. Chiude il cerchio delle pugliesi, ma lo apre in ordine di tempo il Monopoli, che domani se la vedrà contro la Viterbesa in trasferta nel lunch match delle 12.30. Biancoverdi che hanno conquistato quattro punti nei due derby contro Biceglie e Virtus Francavilla. Adesso il match interalaziale può permettere alla squadra di scienza di mettere nel mirino la zona playoff.